Siamo con Riccardo Florian, consigliere con Fappi Venezia, con delega logistica e trasporti. Qual è la situazione delle PMI del territorio, soprattutto per quanto riguarda il settore di riferimento alle sue deleghe? Sempre di più per le PMI del nostro territorio la logistica e i trasporti sono una leva fondamentale per la crescita. Mai come in questo periodo abbiamo visto come l'e-commerce, come la logistica interna delle aziende sia veramente fondamentale. Per cui questo è il momento sicuramente di investire su tutti i processi di logistica interni alle aziende. Quali sono gli strumenti e le opportunità che come associazione con Fappi ha messo in campo in questi mesi? Partendo dalle difficoltà delle nostre aziende nel crescere nel settore della logistica abbiamo riunito un pool di aziende che sono specializzate nel strutturare progetti di logistica all'interno delle PMI. Quindi siamo in grado di accompagnare la crescita delle nostre aziende sotto il profilo della logistica. La logistica 4.0 in questo momento è lo strumento che ci permette di aiutare maggiormente le aziende nella crescita di questo settore. Per quanto riguarda invece le aziende di trasporto che sono associate a P-Industria stiamo portando avanti dei progetti veramente importanti. Finalmente siamo riusciti a fare un progetto di formazione dedicato alla formazione di autisti. Sappiamo tutti che per le aziende di trasporti c'è una grossa difficoltà nel reperire autisti formati, autisti che guidino i camion, soprattutto i camion quelli con patente C, patente E. In questo momento siamo riusciti, grazie alla regione, a fare un progetto per la formazione di otto figure, otto persone che erano disoccupate e adesso stanno partecipando a questo corso. È già partita la prima fase di formazione, una formazione che doveva essere in aula ma chiaramente adesso è online. e a gennaio è partita invece anche la formazione per quanto concerne la patente di guida. Quindi riusciamo a dare la patente di guida C e anche il CQC agli autisti e di partecipare a questo corso di formazione che abbiamo specificatamente creato per la mansione di autista. Inoltre riusciremo a portare a termine un mese di tirocinio presso le aziende, aziende dedicate specifiche nel territorio di Treviso ed è la prima volta che riusciamo a fare un tirocinio di personale viaggiante personale che poi farà l'autista. Quindi è per noi molto molto importante questo progetto perché pensiamo che sia il primo di una lunga serie.